Fra i 18 punti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato per il 19 luglio, il primo con la nuova versione dell'Aggiunta Marchionna, ce ne sono due dedicati alla Tari, la tassa sui rifiuti. I consiglieri saranno chiamati a pronunciarsi sulle tariffe per il 2024 e su alcune modifiche da apportare al regolamento comunale. Per quanto riguarda le tariffe, la volontà politica dell'amministrazione di centrodestra è confermare per l'anno in corso quelle previste per il 2023. Questo perché il Piano Economico Finanziero dell'Ager, l'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, risalente alla primavera del 2022, non ha subito alcuna variazione. Il versamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione il 30 settembre 2024, oppure in quattro rate, la prima alla fine di settembre, la seconda il 30 novembre, la terza il 31 dicembre e l'ultima il 31 gennaio 2025. L'amministrazione, inoltre, intende prevedere la tassazione tari per le aree scoperte che sono adibiti a parcheggio, anche gratuito, come operative indispensabili e strumentali alle attività commerciali suscettibili di produrre rifiuti. Aree, si legge nella proposta di delibera, usate sia per la sosta dei clienti che per la manovra dei mezzi. Non saranno, invece, soggette al tributo le aree scoperte di pertinenza o accessorie alle abitazioni civili, come i posti auto, i cortili, i giardini, i parchi, i lastrici solari, i balconi, le verande, le terrazze e i porticati, purché non siano chiusi e non siano chiudibili con strutture fisse. Il comune, infine, intende regolamentare la tariffa relativa alle unità immobiliari destinate ad attività di accoglienza ricettiva, esercitata in forma imprenditoriale e anche in via occasionale o saltuaria, riconducibili alla nozione comune di bed and breakfast, case, vacanze oppure affittacamere.